Buonasera e benvenuti alla talk che ci fa particolarmente piacere ospitare ancora in limitata presenza ma almeno in presenza di Luca Vitone che saluto e ringrazio per essere con noi questa sera in occasione della sua mostra Io Villa Adriana che in questo momento ospitiamo nella Galleria Gianferrari e che è stato un progetto che ha avuto una sua lunga germinazione fatto in collaborazione con Villa Adriana perché Luca ha realizzato una sorta di residenza di progetto di committenza già da un paio d'anni con Villa Adriana e alla fine questo lungo percorso abbiamo deciso insieme al direttore Andrea Bruciati che anche lui stasera sarà con noi in collegamento però di realizzare questa mostra in due sedi infatti la mostra prevede sia l'esposizione delle tele che Luca ha realizzato in questo periodo a Villa Adriana qui al Maxi ma anche una serie di interventi nascosti tra le rovine di Villa Adriana e che in qualche modo bisogna trovare una sorta di caccia al tesoro però molto suggestiva tra i resti di alcuni luoghi importanti e iconici della Villa. Questa sera a parlare con noi che saluto ci sono Giuseppe e Gianni Guerrera, da lungo tempo amici di Luca che seguono molti degli aspetti e delle tematiche che affronta nel suo lavoro, la curatrice della mostra insieme ad Andrea Bruciati, Ann Palopoli e quindi affronteremo un po' le tematiche che sono state affrontate. Io dalla mia parte appunto questa operazione la trovo particolarmente interessante intanto per la modalità e le tematiche che sono state affrontate da qualche anno qui al Maxi abbiamo sviluppato ma non solo qui ovviamente una sensibilità, un'attenzione nella rilettura del nostro patrimonio storico-artistico attraverso lo sguardo dell'arte contemporanea e direi che su questo Luca è uno dei pionieri e dei maestri rispetto a questa prospettiva. Addirittura, se qualcuno di voi ha già visto la mostra, Luca ha deciso di esporre un reperto molto importante della Villa, un coccodrillo in marmo cipollino che è stato per l'occasione ripolito e restaurato ed fa parte del centro della dinamica di questo dialogo molto stretto tra il contemporaneo e il classico. Allora ringrazio appunto tutti voi e lascerei adesso, non so se Andrea sei collegato, eccoci per un saluto. Andrea Bruciati, ciao Andrea. Buonasera, buonasera da Tivoli. Sì, assolutamente ci tenevo a essere comunque presente per un saluto perché questo è un progetto a cui io ottengo in maniera particolare perché ritengo che dei beni universali e straordinari come quelli che ho l'onore di gestire, come i siti UNESCO che ho l'onore di gestire, debbano essere continuamente riletti, reinterpretati, codificati secondo una sensibilità nuova e differente. Da questo punto di vista l'apporto e il dialogo che Luca ha instaurato con questo sito meraviglioso è stato a mio avviso estremamente proficuo e ha portato a delle soluzioni intriganti perché devo dire che questo grande, questo lungo lasso di tempo causato dalla pandemia ha in realtà a meno dato come soluzione, risoluzione finale un lavoro dove proprio il tempo è riuscito a stratificare l'intervento di Luca e queste tele che lui ha lasciato all'interno di luoghi sia appalleggiando la terra sia lasciandoli in verticale all'interno della villa hanno come reggito in maniera diciamo atmosferica ma non solo con l'anima stessa di Villa Adriana. Quindi questo lavoro che per certi punti di vista è epiteliale legato alla pelle del sito in realtà proprio perché è un sito dove natura e artificio, dove natura e architettura si fondono in maniera straordinaria è stato letto a mio avviso con una grande attenzione da parte di Luca. Quindi per quanto riguarda diciamo lo specifico della mostra noi siamo molto soddisfatti di questa collaborazione, per noi è normale creare reti, anzi questa instaurata con i maxi, noi siamo in qualche modo estroversi, siamo una specie di costellazione come istituto all'interno del territorio Tiburtino per cui è naturale creare questi ponti laddove c'è diciamo un giusto, una giusta sponda, dialogo qualitativo e quindi ci è sembrato assolutamente importante, fondamentale creare una sorta di collegamento sia fisico ma anche diacronico fra la speculazione di Luca e la stratificazione incredibile di un luogo come Villa Adriana. Grazie Andrea e vi segnalo anche la pubblicazione di un libro che è specificatamente su questo progetto quindi troverete un po' tutta la storia della sua genesi e anche diverse letture da diverse prospettive sulle tematiche che caratterizzano da sempre il lavoro di Luca. Lascerei la parola a Anne. Grazie. Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro, ci fa davvero molto piacere che siate qui anche perché questo progetto che abbiamo portato avanti è stato veramente un bellissimo progetto e anche questa collaborazione con Villa Adriana è stata davvero molto ricca. Allora mi fa piacere presentarvi un po' di più qui i nostri ospiti e dunque Gianni è Gianni Carrera e Giuseppe Carrera e Gianni è un filologo musicale e traduttore e collezionista e Giuseppe è uno storico dell'arte, bibliofilo e anche lui un grande collezionista di Luca Vitone dunque con Luca si conoscono da molti anni, hanno lavorato in tante occasioni insieme, diciamo hanno discusso, presentato, parlato di moltissimi progetti fatti da Luca e anche qui l'anno scorso hanno presentato Romanistan, il progetto che Luca ha presentato al Museo Pecci di Prato con Cristiana Perrella e diciamo dunque la loro collaborazione, la loro amicizia è molto strutturata. Entrambi faranno un intervento, sono interventi localizzati, dunque Gianni ci parlerà più di Villa Adriana mentre Giuseppe si soffermerà più sulla mostra qui al Maxi e creeranno una connessione tra questi due siti. Lascio la parola a Gianni. Allora, riassumendo l'operazione, il percorso condotto da Luca Vitone, che forse conoscete ma in questo caso è solo il racconto della trama, sono stati lasciati, depositati al suolo dei lini per un tempo lungo, consistente, in alcuni luoghi o suggestivi o strategici o cruciali di Villa Adriana. È un'operazione che Luca Vitone ha fatto sovente, cioè quella di riprodurre, assorbire come una carta assorbente un luogo attraverso le polveri, le muffe, le sporcizie, gli agenti atmosferici su delle tele, su dei lini, come delle sindoni, collocati o a parete o su balconi o finestre o, come in questo caso, in prati addirittura. Bello perché nessuno di noi li ha visti durante la mostra conclusa dal vivo ma attraverso le immagini si può vedere la condotta di questo comportamento. Perciò questi lini hanno assorbito il terreno, il mondo, l'atmosfera, il tempo di Villa Adriana. Dopodiché, vi sto raccontando solo la trama, dopodiché questi lini, prima volti, poi invece impostati, sono stati fissati, come li vedete nella sala, sopra dei telai, come una classica tela nel suo telaio e esposti qui al maxi. Perciò i lini, che è il lavoro principale, sono nove, nove grandi teli, contengono l'assorbimento come una carta assorbente di luoghi di Villa Adriana e di Villa Adriana. Da qui il titolo Io Villa Adriana, perché è Villa Adriana che in modo autobiografico si racconta o si rappresenta, auto rappresenta, attraverso le sue polveri, attraverso le sue terre, attraverso le sue muffe, sui lini. Chi va a Villa Adriana si accorgerà che le rovine di Villa Adriana, quello che resta di Villa Adriana, sito fantastico, meraviglioso, frutto di un sogno, quello di Adriano, se voi guardate le pareti, le colonne, i resti, le amputazioni di archi o di pietre, vi accorgerete che le muffe, i residui, le sporcizie, le lebre che troverete, che trovate sui lini, sono presenti anche nelle pietre di Villa Adriana. Adesso passiamo in un secondo grado di lettura. Deporre dei lini tra le erbe o tra i ruderi è assorbire, captare dal punto di vista proprio della vegetazione ciò che c'è nel terreno, nell'atmosfera, perché poi ci sono anche gli agenti atmosferici e soprattutto il cambio delle stagioni, ciò che c'è in quel terreno, in quella terra. Però il risultato non è un risultato esclusivamente biologico. Perché? Perché Luca Vitoni ha sempre lavorato sul rapporto tra terra e mondo, due definizioni haidegariane. Ogni terra ospita, contiene, istituisce un mondo. Questo significa che nell'assorbire le muffe, le erbe, i parassiti di quel sito, nello stesso momento vengono assorbiti anche, viene assorbita anche, la cultura, la storia. Cioè il mondo naturale, il terreno naturale contiene il mondo culturale. Ecco perché quel lino e quelle impronte rappresentano Villa Adriana e tutto ciò che ha ha abitato, dimorato e si è sviluppato in quella villa. Questo è il comportamento di Luca Vitone riguardo ai lini. Però io vi ho detto che non vengono semplicemente depositati nella villa, ma a un certo punto interviene un'operazione. E cioè vengono montati su tele e soprattutto vengono trasferiti a Roma. Voi potete vederla nella mostra del Maxi. Già sfogliando il catalogo, che è prezioso anche come immagini, vi accorgerete che tra il comportamento, chiamiamolo cartaginese, cartaginese semitico, del deporre dei lenzuoli sul terreno. E invece l'innalzamento e la parata di tele che avete nella sala vi è già una traslazio tra una villa Adriana che era un sogno esotico, anzi un sogno di deromanizzazione di Adriano, pieno di gusti egizi. Il coccodrillo adesso vedremo cosa implica perché è uno degli animali del pantheon egizio. Se villa Adriana è un luogo lontano da Roma, fuori Roma, per certi versi per Adriano, l'Adriano che sembra avere o ha desideri, sogni di filosofia, di meditazione, di allontanamento dall'impero romano e dalla romanità per avere una villa, per costituire una villa che è frutto e luogo di raccolta dei suoi viaggi. Poi attraverso voi le memorie di Adriano, della Jursenara avete un'idea, questo tipo di idea di Adriano, dove c'è il luogo per pensare, il circo o l'arena per filosofeggiare, dove è un luogo di musica. Quando vi ho detto prima che il luogo raccoglie anche la cultura, chi va a Villa Adriana si accorge che attraverso gli scavi congegnati o mutuati dagli scavi tradizionali di Vitone esce una musica dell'epoca. Questo significa che come noi scavando un terreno troviamo dei reperti culturali, dei manufatti, così Luca Vitone nello scavare fa emergere, fa evaporare, come poi viene riprodotto nei capricci una musica. Questo se fossimo rimasti a Villa Adriana. Se fossimo rimasti a Villa Adriano avremmo una sorta di sudario, di sindone che assorbe il luogo forse agonico e di morte e di meditazione sulla morte di Adriano e soprattutto una cultura che per quanto poteva cercava di essere ellenistica quasi, per quanto era possibile, semitica ma non si può dire questo e soprattutto greca e meno romana. Però Luca porta le tele qui al Maxi. Già Maxi è nome imperiale. Le porta a Roma e soprattutto le innalza, cioè le metta come una parata. Se voi andate a vedere la mostra o ritornate a vedere la mostra, avete difficoltà a ricordare che quelli sono lini. Sembrano marmi, finte marmorizzazioni. Cioè ciò che nella Villa Adriana, nel luogo di soggiorno straniero, come si diceva all'epoca, è fatto di erbe, di vegetazione, di muffe, di funghi, qui diventano finte marmorizzazioni. Entrano in linea con il marmo del coccodrillo e soprattutto diventano pietra, diventano architettura. La sala congegnata, meravigliosa, di Luca Vitone qui al Maxi è una sala romana che riconduce indietro o si allontana da, e poi vediamo se la verità qual è, dal sogno di Adriano di deromanizzarsi. Per capire questo vi racconto brevemente un apologo breve di Kafka. Kafka immagina che un angelo del cielo venga a fargli visita sulla terra. In questo racconto di diari l'angelo sfonda una parete ed entra nella stanza di Kafka. Quando Kafka va a colloquiare con l'angelo o anzi ad attendere il messaggio, una specie di annunciazione dell'angelo, si accorge che l'angelo è di legno. Ma l'angelo, quando è partito dai cieli, dice Kafka, non era di legno, era un angelo, era uno spirito, era un intelletto separato. È il cambiamento di atmosfera, è l'immissione in questa terra, in questo mondo che gli ha mutato natura. Si potrebbe dire che una tela di lino sindonica, per certi versi semitica, di sepoltura non romana, traslata, trasferita a Roma, diventi invece romana. La villa adriana è una villa transeunte di soggiorno e non di dimora, soggiorno per l'adriano straniero che quando viene qui a Roma diventa una villa adriana eterna, come c'è una Roma eterna e come c'è una Germania eterna o un Egitto eterno. Questo per farvi capire che l'indagine di Vitone sui luoghi è realmente paradossale ed è forse più sorprendente di quello che all'inizio io immaginavo. Immaginavo di trovare villa adriana, io invece ho trovato la vittoria, il trionfo, la parata di pietre, di marmi e ripensiamo a tutta la moda da Pompei attraverso il giotto degli scrovegni, il beato angelico, il veneziano, delle finte marmorizzazioni. La finta marmorizzazione e oggi sono tornato con Luca a rivedere la sala ed è una sala di pietre, è una sala di marmi, è una sala di romanità, è la villa adriana diventata eterna. E questo è un mutamento impressionante perché fa capire l'influsso del terreno, della geografia anche sulle opere d'arte e sulla materia. Questo significa che uno spostamento di giotto, uno spostamento di qualsiasi altro opera può causare un mutamento estetico e di significati di quell'opera e cioè la geografia, il luogo, la topografia ed è uno dei principi della ricerca di Vitone influisce sull'opera d'arte, sul risultato d'arte. Mi fermo qui, questa è la premessa. Allora, riprenderei proprio da qui, facendo un passo ulteriore, tenendo presente proprio la sala del Maxi con il coccodrillo squisito in marmo, cipollino con le fauci aperte e i teli di lino verticalizzati e diventati sontuosi e imperiali. L'opera, secondo me, secondo me come visitatore della mostra, l'opera, la sala di Luca Vitone ci dà un avvertimento importante. Questi sogni, questi sogni, parliamo di quelli di Adriano, questi sogni culturali, artistici, di pensieri filosofici squisiti e pensiamo a Villa Adriana, luogo di incanto, di incantamento, di filosofia, di meditazioni sottili. Ebbene, questi luoghi splendidi, questi sogni splendidi sono sogni del potere. Non sfuggono al fatto di essere sogni del potere e nel potere. splendidi, ma senza nessunissimo valore spirituale. E' questo che rende drammatica la sala del Maxi di Luca Vitone. Parto con un esempio, anch'io un apologo. Una delle più struggenti, so che non è bello che io usi questo termine, vedrete fa poco, una delle più struggenti immagini di Adolf Hitler è nel bunker della cancelleria di Berlino, poco prima della fine di tutto, della caduta degli dèi, definitiva, in cui, questa immagine, una foto che potete trovare dappertutto in rete, su una seggiolina quasi da scuola elementare da bambino, gli ultimi giorni Hitler li passa seduto in questa seggiolina ore e ore a contemplare la sua villa, il suo Führer Museum per la città di Linz. L'idea di Hitler di un museo pazzesco, meraviglioso, da donare alla città di Linz e a tutto il mondo, nasce soprattutto dopo la visita a Roma e a Napoli, ma soprattutto a Villa Adriana. La villa, il Führer Museum, è qualcosa di commovente, per assurdo, di una sensibilità artistica incredibile. Ad esempio ci deve essere una numerosissima biblioteca, importantissima, le opere d'arte, al centro delle opere d'arte, l'opera più amata da Hitler, cioè l'astronomo e il geografo di Vermeer, che è l'opera che ama di più. Vi voglio ricordare nella sensibilità così squisita del potere che Hitler dal 1939 ha imposto una regola, per il suo compleanno si devono solo regalargli opere d'arte, non vuole nient'altro, spende molto, non vuole neanche affari, ha bisogno semplicemente di immaginare questo grande sogno d'arte dove tutte le sue passioni. Paul Celan ci ha insegnato una cosa in maniera definitiva, gli aguzzini amano da morire la grande letteratura e i cieli stellati, come anche Adriano. Dunque Hitler, ad esempio, immagina due mausolei straordinari da dedicare ai suoi genitori, al papà e alla mamma, vuole qualcosa di commovente. Si ricorda una passeggiata quando era giovane in cui aveva detto a un suo caro amico farò un regalo eterno alla mia Linz e non a Vienna. Un particolare per Natale, il regalo di Natale per Hitler era l'album fotografico che raccoglieva lo stato della sua collezione. Perché vi racconto questo? Perché nella tradizione ebraica Adriano è il predecessore di Hitler, ha massacrato e ha distrutto Gerusalemme, al posto di Gerusalemme voleva fondare Aelia Capitolina, sul santo sepolcro erigere un monumento in onore di Afrodite, testare e rendere sacra l'intera terra di Israele attraverso il culto di Giove e la proibizione, come è avvenuto, ad ogni ebreo di poter entrare a Gerusalemme. 850.000 morti e non sono fonti ebraiche, sono fonti imperiali. Massacro perpetrato. Verrà concesso agli ebrei solo di rientrare a Gerusalemme per piangere davanti al muro. A quello che resta è il muro del pianto, frutto delle distruzioni e dei massacri di Adriano. Intanto Adriano costruisce la sua villa, i suoi sogni filosofici, la sua tolleranza. Vi ricordo che la tolleranza è una delle modalità più terrificanti del potere. Non esiste. Sì, la tolleranza di Anno va bene, appunto, all'interno del potere. C'è qualcosa dunque che insegna Villa Adriana, solo in questa trasposizione, che in questa sala che vedete noi abbiamo un mausoleo di morte, con al centro un coccodrillo con le fauci spalancate che non ci fa dimenticare da dove nascono i più bei sogni culturali. Ah, per me che sono un collezionista, i più bei sogni culturali nascono all'interno dell'anarchia e del terrore del potere, come tutta la storia della cultura. C'è un particolare che poi mi colpisce ancora di più. Queste polveri, queste ceneri, che Paul Celan purtroppo ce l'ha insegnato, sono le tombe del cielo. Noi abbiamo tutti i nostri cimiteri ormai nel cielo. Sono i forni crematori, sono i roghi. Oggi direi che abbiamo due grandi cimiteri, nei cieli e nei mari, nel mare e nel cielo. Dunque si potrebbe dire che queste polveri addirittura hanno, oppure che queste linee hanno captato, hanno assorbito l'orrore della storia, diventando la perfidia del classicismo, in una sorta meravigliosa, che è la villa di Adriano, che io difficilmente riesco a visitare a cuor leggero, sono sincero. Ho sempre paura, proprio perché so la mia debolezza, come cultore del bello, della cultura del bello e del nobile. Un particolare, però, con cui vorrei chiudere questa introduzione, questa lettura della sala. Nella tradizione ebraica Adriano viene sempre accompagnato da un epiteto, che possano le sue ossa essere frantumate. Ogni volta che gli ebrei, nella grande tradizione, pronunciano il perfido dominio di Adriano, aggiungono l'epiteto, possano le sue ossa essere frantumate. E allora mi è venuta un'idea, camminando nella sala del Maxi, che forse la perfidia del classicismo di Luca Vitone sia riuscito, anche verticalizzate, sontuose e imperiali, a utilizzare finalmente le ceneri frantumate delle ossa di Adriano. E che dunque i sogni, i sogni della bellezza dell'arte, devo dire, in moltissimi casi, uso un termine un po' estremo, non sono mai abitati dallo Spirito Santo. Ed è questo che mi piace di questa sala. Una sala che ogni volta che ci sono entrato qui al Maxi, con quell'intuizione del coccodrillo che sia stato, è un'illuminazione, non credo che sia stata mai pianificata da Luca Vitone. Metto il coccodrillo. In realtà mettere il coccodrillo con le fauci spalancate è per noi, credo, spero, per chi l'ha vista, chi la vedrà o condivida in parte quello che sto dicendo, questa visione. Che devo scontare per primo, perché vi avverto, io amo tantissimo questi sogni di bellezza, però Luca forse ci ricorda una cosa, questi sogni fanno terrore, hanno anche un contenuto di terrore. E chiudo proprio ricordando le ceneri, le polveri delle ossa di Adriano e che Villa Adriana, in un certo senso, è uno di questi sogni. E mi chiedo spesso una cosa, nel momento in cui noi fossimo nel pieno del potere, cioè potessimo godere dell'anarchia totale del potere, quali splendidi, commoventi, struggenti sogni, potremmo produrre a nostra volta. Grazie. Ringrazio Gianni e Giuseppe che ci hanno accompagnato in questo bellissimo racconto così suggestivo e oltretutto volevo aggiungere rispetto alla figura del coccodrillo, rispetto alla crudeltà di cui ci parlava Giuseppe, che il coccodrillo con queste fauci spalancato si dice che sia l'animale che ha mangiato Antino, l'uomo amato da Adriano che si pensa fu ucciso, fu buttato nel Nilo e venne poi mangiato dai coccodrilli. Dunque diciamo in qualche modo questa crudeltà di Adriano si concretizza in questa figura lì presente. Volevo chiedere a Luca perché tutto questo discorso sul potere, su questa rappresentazione del potere o comunque questa traslazio del potere da Villadriana al Maxi, in qualche modo il tema del potere è un tema che lui già ha affrontato. Dunque mi piacerebbe chiedergli in qualche modo come rispetto al lavoro fatto precedentemente che si chiama Imperium e che è sui luoghi di potere in Germania, come in questo caso diciamo come ha vissuto questo cambiamento e se effettivamente si ritrova in questa narrazione fatta da Gianni e Giuseppe. Intanto buonasera a tutti e grazie. Dunque l'argomento del potere è un argomento che un po' mi ossessiona ormai da tanti anni e in modo diverso l'ho sviluppato di progetto in progetto e come citavi Imperium fatto nel 14 all'NBK Neuer Berliner Kunstverein a Berlino così avevo fatto altri progetti in qualche modo legati al potere, in maniera più letterale, in maniera più trasversale in vari luoghi e in utile adesso citare tante mostre e progetti. Ma quando il Maxi nella figura di Bartolomeo Petromarchi mi invita a esporre, a pensare un progetto, una personale a Roma nel Maxi, cioè il museo per il contemporaneo, per le arti visive contemporanee in Italia, ho pensato che essendo nella capitale in cui una capitale eterna, una capitale che comunque da più di duemila anni riconosciamo come punto di riferimento soprattutto per l'Occidente ma anche per il mondo da tantissimi punti di vista religiosi, storici, imperiali, turistici e venire a esporre a Roma e al Maxi ho pensato di ragionare su quell'elemento che ha definito un'idea di potere occidentale che è stato esempio per tutti i poteri successivi che si sono susseguiti e hanno vissuto fianco a fianco nei secoli successivamente appunto a quello che è stato l'impero romano e la sua capitale Roma. Per cui mi interessava provare a lavorare sulla classicità o comunque sulla romanità e per farla breve ho trovato in questa villa un esempio che mi aveva affascinato adesso senza andare a bellissime trasposizioni che così si impara sempre e ho scoperto anche questa sera grazie a Gianni e Giuseppe. La cosa che avevo capito attraverso le mie letture era che l'idea di Adriano di trasferire fuori dalla capitale la sede del potere personale quindi imperiale lontano chilometri dal senato e dal luogo di residenza delle famiglie che interagivano con lui e potevano anche diventare un imbarazzo per la gestione del potere che è stato un esempio ripetuto nei secoli da altri grandi importanti imperiali regnanti in giro per l'Europa e questo mi è sembrato un esempio utile a me come artista per cercare di capire come risolvere e capire che tipo di opere presentare per questa mostra. Per cui l'idea di andare a Villa Adriana nasce proprio dal desiderio di concentrarsi su il luogo del potere moderno all'epoca soprattutto idea di luogo e quindi di gestione del potere e da lì nascono le opere e mi perdo per cui non so nemmeno se sto rispondendo alla domanda e dove devo fermarmi ma lavorato abbiamo lavorato due anni su questo progetto. Bruciati direttore di Ville mi accoglie subito diciamo che la fortuna forse mia è di avere come direttore di quel comprensorio un contemporaneista e non un archeologo che non solo ci si conosceva già ma capisce conoscendo forse il mio lavoro immediatamente cosa avrei voluto fare o come avrei potuto risolvere il problema lavorando a Villa Adriana. L'aiuto di Giulia Floris curatrice per il contemporaneo a Ville è stato determinante perché ha avuto non so se definire fortuna o sfortuna però mi ha seguito per due anni e mi ha sopportato per due anni avanti e indietro portandomi e facendomi scoprire anche i luoghi più nascosti della villa compreso quel museo chiuso da anni che è stato fondamentale per me per risolvere esteticamente formalmente l'idea della mostra. Quando l'estate scorsa mi invita andare a visitare questo museo avendo già visto parecchie cose ovviamente subito accettato poi scoprendo che c'era anche un museo che non mi erano nemmeno accorto e che era chiuso a tanti anni accetto immediatamente l'idea di andarlo a visitare e appena entriamo nel museo il primo oggetto che ci accoglie è quel meraviglioso oggetto in marmo cipollino del secondo secolo con le fauce aperte che mi fa subito diciamo come dire sbarellare dal punto di vista così dell'amore nei confronti degli oggetti ecco e quindi le chiedo immediatamente se è possibile se fosse possibile averlo in prestito per la mostra vabbè adesso la faccio molto breve c'è stata un po' di vicissitudine con la dottoressa Dembri perché insomma un oggetto di questo tipo mai è uscito dalla villa a 1900 anni fragile ma non si può non è possibile non si può fare così allora ho cercato di sedurre la dottoressa Dembri in vari modi con messaggi telefonici sibillini e alla fine quando abbiamo capito quale fosse il vero problema del trasporto del coccodrillo ovvero il suo restauro e l'assicurazione il trasporto capendo che non era una cifra così insormontabile che per una mostra che tutto sommato era nel principale museo italiano e per il contemporaneo e in uno dei siti archeologici più famosi del mondo forse ce l'avremmo potuto fare e devo dire che Bruciatti in questo è stato molto bravo perché ha trovato lo sponsor che ci ha permesso ha permesso a me di avere anche la soddisfazione di aver fatto pulire e restaurare un oggetto così prezioso e comunque poi di averlo nella sala e quindi noi tutti ormai lo vediamo lì dentro per me questo oggetto è proprio una metafora di tutta questa mostra insomma una metafora della ricerca una metafora delle relazioni che si instaurano tra la committenza e l'artista tra il sogno e la realtà tra l'antico e il contemporaneo l'appena fatto e tra l'autore e il non autore purtroppo quell'oggetto di marmo è frutto dell'intuizione di un anonimo scultore che da quel pezzo di marmo che non poteva essere utilizzato per pavimentazioni e colonne come di solito viene usato il marmo cipollino perché venato perché da buttare ma quelle venature gli fanno pensare che lavorandolo avrebbero sarebbe riuscito a tirare fuori questo oggetto realista che è diventato appunto questo questa fontana presente nella villa Adriana e questo anche questo è un dato secondo me molto interessante perché proprio anche questa idea di riuscire da un oggetto apparentemente da mandare in discarica invece riuscire a trasformarlo in un gioiello in quel tipo di gioiello è un altro esempio che secondo me è interessante e curioso per comprendere che cosa voglia dire produrre un'opera insomma questo cocodrillo come diceva Anne forse il mangiatore dell'amante di Adriano è simbolo dell'unico altro grande impero dominato da Roma ovvero l'antico Egitto e quindi un esempio di un potere coloniale che ha soggetto un altro potere istituzionale importante e fondamentale per la storia dell'occidente. Ecco tutti questi racconti hanno fatto sì che alla fine mi hanno fatto lavorare su questo ulteriore progetto dedicato a un'idea di potere e realizzare io Villa Adriana Grazie, volevo chiedere a Gianni perché diciamo quando ci ha parlato di Villa Adriana ha parlato di questo luogo in cui Adriano raccoglieva i suoi ricordi di viaggio cioè era diventato il luogo in cui lui in qualche modo costruiva proprio monumenti che gli ricordavano i posti che aveva visitato in cui era stato così e il tema del ricordo è un tema diciamo molto presente nel lavoro di Luca allora mi piacerebbe che tu in qualche modo ci così aprissi un po' con un'altra tua narrazione questo tema, questo aspetto. Allora, così anzi mi viene data l'occasione di analizzare ancora una parete di cui non abbiamo parlato all'interno del Max ed è quella che all'inizio mi aveva lasciato perplesso quando entrai a vedere la mostra di Luca ero convinto dalla verticalità dall'altezza di tutte le cose dalla maestosità e dalla grandezza dal principio della solennità e della rettitudine non morale ma appunto del potere l'autorità è verticale ed erretta invece nella parete finale che era la parete così come era concepita qui nel Max vi era una diagonale che è l'unico ricordo che noi abbiamo del dato, come dicevo prima egettizzante cioè dedicato all'Egitto di Adriano e delle mode che provenivano dai suoi viaggi e soprattutto il gusto esotico che è sempre un gusto antiromano o di corruzione della romanità del principio primigenio originario di Roma quel principio che viene come dicevamo prima restaurato e reintegrato con lo spostamento delle tele dei teli dalla posizione orizzontale o sciolti, liberi, aleatori a invece il fatto di avere di nuovo una forma faccio una precisazione c'è un passo famosissimo molto bello che sicuramente conoscete di Hegel dove Hegel dice si intitola la polvere di Apollo la polvere degli dèi se una statua di Apollo o se una colonna greca o romana venisse ridotta in polvere avrebbe ancora la nostra ammirazione e venerazione classica dice no assolutamente no la polvere non riesce di per sé anche se sai che è la polvere di quella statua non riesce ad attrarre con la sua mancanza di forma usa l'espressione proprio gestalt con la sua mancanza di forma non riesce ad attrarre l'ammirazione considerate che nel momento in cui Luca maneggia delle polveri raccoglie delle polveri fa un'operazione di questa natura cioè innalza delle sculture cioè non lascia la polvere come mucchietto di polvere ma per riavere riassorbire rimagnetizzare l'ammirazione la venerazione per la classicità per la forma le deve innalzare e le deve riformulare e riformalizzare ecco quello che accade in questa in questa sala la parete di fondo invece è come il ricordo di un dato esotico perché la diagonale la diagonale non è romana ma è esotica è cartaginese è semitica è ellenistica non è un principio seguo Simon Veil di romanità pensate quando Mondrian considera scandalo una diagonale dei suoi dipinti è questo scandalo che è uno scandalo storico etico filosofico antropologico è quello che io ho provato quando sono entrato in una sala dove c'era l'impermeabilità egizia del coccodrillo il coccodrillo potrebbe diventare allegoria o surrogare l'aquila o la lupa che manca ha delle voracità o delle violenze identiche in realtà è dove accade il passaggio dall'Egitto eterno ammirazione per l'Egitto come potere come ieraticità e come impermeabilità somma era l'unica cosa che può rendere eterna anche Roma e renderà eterna anche la Germania e tutto il resto dicevo quella parete aveva un dato un dato esotico in quella parete Luca come un raccoglitore di viaggi mette due grafiche reali due stampe reali cioè dell'epoca due acquaforti del Piranesi che era un modo di rapportarsi alla Romanità attraverso le rovine attraverso i ruderi attraverso le carie in questa sala tranne quei due oggetti quei due souvenir che sono quelli più vicini alla vera identità della villa la villa è una villa di rovine è una villa di ruderi qui tranne la coda mozzata l'unica evirazione del coccodrillo Luca non raccoglie cocci non raccoglie rovine ci sono questi due quadretti veramente souvenir in una parete diagonale che può ammettere questo sentimentalismo tutto il resto come vi ho detto prima è classicismo nella sua massima massima indagine di culto della della potenza culto della volontà di potenza e soprattutto l'idea come vi dicevo prima che Roma in questo caso con tutto quello che significa e implica è in grado di trasmutare un sogno di deromanizzazione come quello della villa Adriana in un nuovo impero una nuova potestas di questa natura e questo è una delle cose sorprendenti da mostra quella parete invece quella parete è legata ai viaggi è legata alle rovine per il resto la sala non ha rovine che è uno dei primi principi principi iper romantici oltretutto che avrebbe potuto utilizzare perché nelle poi due rovine perché naturalmente Piranesi invece è fatto di rovine è l'intuizione della Roma transeunte che è passata non della Roma eterna e lì all'interno poi attraverso uno scafo l'individuazione di alcuni scavi come fa dal vivo in Villa Adriana fa uscire fa emergere la melodia il suono che immagina o presume che sia rimasto soffocato nelle viscere di Villa Adriana per il resto per il resto la musica chiamiamola così il suono l'acustica della sala è un'acustica assolutamente di musica di musica guerresca di musica militare perché? perché è l'indagine di Luca sull'imperium cioè sui poteri e sulla forza dell'impero in grado di trasformare delle ceneri delle polveri o delle erbe perché è quello che predomina o delle acque Villa Adriana è un grande luogo di acque perciò tutto ciò che è molle tutto ciò che è umido diventa si cristallizza e diventa pietra diventa marmo diventa tombale per certi versi ma dall'altro muta attraverso tecniche pittoriche ecco perché non abbiamo mai parlato di monocromi perché l'opera non è pittorica in quel senso è una ripresa della finta marmorizzazione in termino quando noi andiamo a Firenze a San Marco e vediamo le finte marmorizzazioni del Beato Angelico prima naturalmente di tutto il racconto evangelico sono all'altezza di noi spettatori quei finti marmi del Beato Angelico sono come quando c'era la fine delle trasmissioni o l'inizio delle trasmissioni televisive cioè sono quel pulviscovo quelle finte marmorizzazioni che sono una dieta prima della visione delle immagini prima della apparizione dei Cristi o delle Madonne o di altro la finta marmorizzazione serve non a decorare ma a purgare gli occhi nella sala tutto da questo punto di vista tutta questa purga oculare straordinaria è in funzione poi dell'omaggio enorme gigantesco a quel coccodrillo che in Villa Adriana ricordatevi decorava una piscina presumibilmente era innocente faceva parte dei diletti dei giochi la villa è una grande luogo anche di giostre è una grande luna park e qui a Roma parte i circhi mentre lì non si faceva circo qui a Roma il coccodrillo portato a guinzaglio e messo nei bordi di una piscina che riproduceva il nilo qui diviene diviene il martirio per i gladiatori per i cristiani cioè diventa diventa ferocia diventa è lo stesso un coccodrillo ma Roma è un terreno che ha come mondo questo lo dice seguo Simone Veil la ferocia la ferocia della potenza e del sogno del dominio e del potere ecco io volevo fare una domanda a Giuseppe e a Luca insieme perché partendo da quello che Giuseppe diceva su questo concetto di eternità cioè su questo traslazio da Villadriana al Maxi e questa idea dell'eternità che viene portata qui a me mi ha molto colpito diciamo poi guardando a posteriore la mostra che dopo averla fatta proprio la parete di fondo di cui parlava Gianni perché mi è sembrato come se fosse in qualche modo una misona BIM nel senso all'interno del Maxi lo spazio diciamo deputato all'arte contemporanea viene dipinta una parete con le polveri raccolte nell'osservatorio di Adriano dunque c'è il luogo in cui in qualche modo lui guardava le stelle sognava e immaginava universi e su questa parete fatta con la polvere vengono allestiti due piranesi dunque il diciamo il piranesi il padre del vedutismo dunque della in qualche modo di questa di questo spazio che viene reinterpretato attraverso il segno grafico dunque mi è sembrato diciamo tutta la mostra ma soprattutto questa parete come un luogo in cui in qualche modo uno si può infilare e entrare nella storia e non uscirne più ecco è una cosa che vi risuona o è qualcosa diciamo un po' mi è risuonato questo tuo su questo tuo discorso sull'eternità sarò molto breve se ricordate avevo fatto una citazione di Paul Celan un po' feroce gli Aguzzini amano la grande letteratura e il cielo stellato per cui Adriano aveva il cielo stellato e un osservatorio astronomico io direi che c'è un elemento che riprendo da Gianni gli Aguzzini sono sentimentali quella è una parete sentimentale sentimentale era anche Piranesi e dunque la diagonalità di quella parete la polvere di quella parete che vedete è presa dall'osservatorio astronomico il cielo stellato i capricci di Piranesi che fanno parte della sua organizzazione anche di mitologia della romanità rispetto alla contemporaneità cioè questi ruderi immensi enormi di fronte ai quali noi non siamo niente dei poveri impoveriti e miseriti che ricordo penso che lo si parla di tutti quando Goethe viene in Italia abituato a vedere le rovine e i capricci a casa sua di Piranesi è stupefatto dal fatto che è tutto molto più piccolo rispetto al gigantismo di Piranesi ma anche quell'elemento musicale quella musica che viene dai capricci di Luca Vitone cioè da questa manomissione dunque io vedo questa parete in un elemento sentimentale e ancora una volta non so quanto cosciente come la scelta del coccodrillo io sono convinto che il caso è uno dei grandi momenti della creazione dell'arte e cioè è una delle divinità della strada dell'arte che è il caso entrare in un sotterraneo dove il museo è ancora chiuso vedere il marmo cipollino tutto il racconto anedotico funziona manca un elemento quella che e qui divento io sentimentale è la grazia dell'ispirazione e il salto qualitativo per cui per quanto io possa essere uno studioso non avrei mai preso quel coccodrillo e messo lì al centro quando vado a vedere quel coccodrillo dico accidenti Luca Vitone però possiamo discutere a lungo e probabilmente io so meglio di lui la storia romana e potrei fare dal 135 al 153 dopo Cristo tutto quello che è successo all'impero imperiale ma con quel gesto che è un gesto in cui il caso detta la luce dell'illuminazione artistica io ho la lettura di questa sala così come riprendendo quello che diceva mio fratello l'obliquità di quella parete dove ci sono i piranesi mi fa ricordare le lacrime di Nerone davanti a Roma che brucia cioè la sentimentalità dell'impero e noi dobbiamo essere desti di fronte alla storia dell'impero cioè noi dobbiamo immaginare qui abbiamo citato Simon Veil e io cito ovviamente Elsa Morante che noi stiamo parlando semplicemente della storia culturale di uno scandalo che dura 10.000 anni che è la storia grazie è difficile adesso dire qualcosa e intanto posso dire che Piranesi mi ha sempre affascinato fin da diciamo ragazzino da quando ho cominciato a guardare questi oggetti e mi sarebbe sempre piaciuto averne uno e non mi sono mai dedicato e con questa occasione ho convinto l'amministratore dello studio a investire nell'acquisto di Piranesi e a trovare una giustificazione e quindi mi ha dato la possibilità mi ha come dire autorizzato a prevedere l'acquisto di due Piranesi e quindi li ho presi Piranesi come hanno già detto loro sappiamo tutti chi è inutile che adesso mi metta a fare la lezione di storia dell'arte per me funzionava perché era l'idea della veduta appunto della romanità e quindi all'interno di questa mostra dove molto realista come il cocodrillo così le tele sono rilievi della villa il cocodrillo proviene della villa e quindi testimonia l'esistenza della villa e così Piranesi ce l'ha raccontata e ci ha fatto sognare un'idea appunto di rovine romanità fasulla ideale che però ha creato l'immagine di quello che noi abbiamo come idea visiva appunto di uno scavo archeologico di cosa rimane di un tempo lontano per cui Piranesi per me era quello non è la prima volta che uso un'incisione un'acquaforte per fare questi disegni di note che escono fuori dalla terra come alcune mie opere degli anni soprattutto degli anni 90 anzi devo dire che quest'occasione di Villa Adriana esattamente vent'anni dopo all'ultimo al sesto scavo che feci in Lussemburgo mi ha permesso di riportare quest'opera di nuovo a Roma perché nel 99 era a Villa Medici in una mostra all'Accademia di Francia per cui in questo caso però ho scelto delle incisioni ben precise questo qui fa parte un po' anche del lavoro e quindi appunto Piranesi la parete di fondo adesso non vorrei che la signora Zadid si arrabbi per quello che dico però insomma siamo in un museo d'arte contemporanea la parete frontale dove di solito ci va il capolavoro è storta e dice che c'è pendoli una tela non ci sta e quindi ho risolto il problema dando coloro sulla parete per risolvere un po' questa cosa e con una delle polveri per cui in questo caso ci sono quelli che io chiamo agenti atmosferici cioè i lavori con la tela quindi direttamente sul paesaggio in quel caso ho lavorato con le polveri come quando lavoro con le polveri di interno e quindi usando quel non pigmento come un pigmento da acquerello e l'abbiamo data sulla parete è una polvere di interno perché proviene dall'osservatorio astronomico di Adriano per cui un semi interno per quello che è rimasto e che grazie alle archeologhe di Villa Adriana mi hanno permesso di raccogliere il pigmento necessario per poter fare quella parete e non per niente è un osservatorio astronomico insomma anche questo io adesso senza conoscere il caso insomma aiuta noi che non abbiamo che non conosciamo la romanità così bene giustamente cioè giustamente purtroppo però insomma l'osservatorio astronomico fa subito sognare fa chiudere gli occhi immaginare paesaggi lontani che vanno al di là di qualsiasi di qualsiasi viaggio possibile immaginario per cui ecco questo dicendo in maniera molto semplice e realistica sono un pittore realista nella tradizione seguo quel modo di operare e peccato che Courbet non abbia mai fatto un'opera su Villa Adriana perché avrei provato sicuramente a portarcela e ecco ha risolto poi un po' insomma l'uso di una parete in diagonale invitare un maestro precedente a esporre insieme a me e arricchire insomma questa sala grazie abbiamo ancora qualche minuto non so se qualcuno dal pubblico vuole fare una domanda chiedere qualcosa a qualcuno di noi due brevissimi annotazioni una a Giuseppe che ha citato la polvere e il caso la polvere e il caso sono due elementi che si ritrovano non a caso in un grandissimo artista che si chiama Marcel Duchamp e che della polvere e del caso ha fatto una una prospettiva che ci parla del tempo del potere della casualità in termini di esistenza ecco questo io credo sono partito anche da qui nel testo in catalogo per per raccontare il percorso di questa mostra che effettivamente come dicevo prima ha la capacità assoluta di al di là della ierecità della della rappresentazione del potere di tutte queste idee che sono giustissime e molto forti della capacità di rendere di nuovo viva una una storia di rendercela davvero umana perché in questo sia a Villa Adriana che nel Maxi si sente aleggiare davvero lo spirito di Adriano un po' come i suoi versi animula blandula vagula e che e che ci riporta tutta una serie di questioni cruciali essenziali nella rilettura del nostro patrimonio storico della nostra storia della nostra identità profonda della nostra DNA e che in un modo completamente sorprendente che solo un artista e solo lo sguardo dell'arte è capace di fare il bello anche dell'attitudine di Luca è appunto di non fermarsi mai di essere essenzialmente e profondamente un nomade e lo vedete nella base del coccodrillo che sta lì è arrivato quasi per caso ed è pronto a ripartire ed effettivamente ci dà anche in questa rappresentazione qualcosa di essenziale cioè qualcosa che l'impermanenza di quello che affronta è qualcosa che rende viva e di una sensibilità assoluta la sua poetica volevo sapere se c'era un motivo per quella per quella tela di lino dove sembra raffigurata una croce che però sembra un valore architettonico una specie di sindone e poi l'ombrello arcobaleno curioso se può arcobaleno che per il resto è stato tutto molto esastivo diciamo allora la croce è casuale come tutti i disegni che appaiono sulle nove tele io non ho fatto assolutamente nulla ho semplicemente posto le tele nello spazio ecco l'unica differenza che sono le tre come la croce le tre diciamo più gialle erano appese mentre le altre sei erano coricate erano orizzontali alcune su una pavimentazione romana alcune sul prato sono rimaste lì non ho fatto niente quello che è successo è successo e devo dire che anche questo tipo di opere che io appunto chiamo agenti atmosferici questa mi sembra che sia una settima serie di questo tipo di insomma di questo tipo di opere e ogni volta i luoghi sanno esprimersi in maniera sorprendente e escono fuori sempre qualche cosa di curioso e di appunto inaspettato che già implica piacere così come le polvere di interni che variano cromie tra gli ocra e i grigi comunque ogni luogo ha una cromia leggermente diversa ogni luogo alla fine ha una sua caratteristica indipendente ecco per cui così sono venute come sono seguendo appunto il caso l'arcobaleno l'ombrello arcobaleno riprende semplicemente quell'opera che è intitolata le cinque pietre di Davide è un'opera che fece per una mostra a Ostia Antica dove c'è la più antica sinagoga del mondo occidentale e diventa quelle cinque pietre che di cui noi ne vediamo solo quattro sono un po' una sorta di reliquia di quello che è successo in quel giorno che Davide sfida a Golia e la quinta pietra rimane nella testa del gigante e quindi si perde le altre quattro come con la prima pietra che abbatte il gigante le altre quattro rimangono nella sua saccoccia e quindi biblicamente rimangono poi a noi come testimonianza allora c'era questa storia che è una storia biblica conosciuta da tutti soprattutto è una storia facile da raccontare ai bambini perché è metaforica il bambino contro il grande il gigante generazionale ci sono tanti racconti alle spalle e così come quella dell'arcobaleno che è l'altra storia biblica importante famosa per tutti e soprattutto per i bambini che è quella dell'arca di Noè a un certo punto Dio la disperazione di Noè che continua a vagare per mari senza prodare a nulla con tutti questi corpi di animali viventi che in qualche maniera deve sfamare prima o poi rimettere in libertà Dio appare a Noè e gli dirà e gli dice che apparirà un segnale che gli permetterà di capire che il viaggio è finito e approderà una terra e quel segnale è l'arcobaleno che arriva ecco per cui io ho messo insieme queste due favole favole pardon queste due storie bibliche e l'ho sintetizzato in quell'opera che viene esposta a Ostia Antica e quando mi viene l'occasione di esporre anche a Villa Adriana mentre là forse il reperto archeologico arriva a Ostia come reliquia qua forse vi arriva come rappresaglia e come ruberia di Adriano dopo aver annientato la comunità israelitica in Palestina ecco questo era il motivo grazie se non abbiamo altre domande ci salutiamo qui grazie veramente a tutti di essere venuti grazie a Gianni grazie a Giuseppe grazie a Luca e speriamo a presto grazie a voi grazie a voi